Bene, per l'ennesima volta dai laboratori di Sound Machine, sono Valentino, questa volta per presentarvi un semplice intervento su BMW Z4 che consente, asportando le bocchette dell'aria che normalmente sono posizionate nella parte superiore, dove sotto viene posizionata la radio originale, l'inserimento di un monitor 2D. In questo caso abbiamo approntato quindi questa profilatura estetica e pensato di inserire questo monitor JUC che permette di mettere in sicurezza il sistema da eventuali malintenzionati, asportando integralmente il frontale. Avremo poi un astuccio all'interno del quale potremo posizionare il nostro monitor e andare a fare la spesa tranquilli senza preoccuparci di qualcuno, che qualcuno ci possa rubare il nostro nuovo prezioso oggetto. Spero vi interessi anche questa soluzione dai laboratori di Sound Machine. Buongiorno a tutti, Valentino, ciao!